Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo In questa puntata faremo l'unboxing delle batterie Praticamente sono dei battery pack per la telecamera Ramos SJ4000 Scusate un po' per la bassa qualità ma sto usando una delle mie vecchie telecamere Anche perché quelle in full HD sono tutte occupate a ricaricarsi oppure a scaricare la memoria E quindi come sapete la batteria di questa telecamera dura solo 90 minuti Ed è molto limitata in caso che siete in giro per tutto il giorno E dovete fare molte riprese spettacolari attraverso questa telecamera Che devo dire che è spettacolare in se stesso Comunque mettiamola un secondo da parte e andiamo ad aprire il pacco Il pacco è arrivato un po' agli ultimi due giorni di disposizione nell'arco di 3 o 10 giorni Sono arrivate con poste prioritarie quindi poste italiane Andiamo ad aprire il pacco Ecco il pacco non è molto ben costudito Però andiamo a vedere Allora le batterie sono queste Ecco praticamente sono due batterie Ok dov'è Sono due batterie che si trovano dentro questa busta Come vedete sono molto simili alla batteria che ci viene data originalmente In teoria queste dovrebbero risultare molto più capienti Anche se adesso andremo a vedere Allora questa è una delle batterie e adesso vi spiego come montarla sulla telecamera In basso trovate il coperchio che dovreste aver già smontato in precedenza Quando avete comprato per la prima volta la telecamera E quindi inserita la batteria Date una piccola botta e dovrebbe uscirvi subito la batteria In questo caso basterà tirare il foglietto e estrarla Qui come vediamo possiamo notare la vecchia e la nuova batteria Quindi mettiamola un secondo da parte quella vecchia E inseriamo quella nuova Andiamo ad accendere Anche se le batterie saranno probabilmente scariche Quindi come adesso ci fa vedere la Ramos Scusate Questa batteria è scarica Quindi bisognerà ricaricarla Una volta ricaricato saremo pronti per fare le riprese Come una volta e con altre batterie e molta più durata Va bene ragazzi Io vi ringrazio per aver visualizzato questo video Ringrazio le ultime visualizzazioni Ringrazio gli iscritti Quindi grazie a tutti E alla prossima puntata della Computer Museo Ciao ciao Ciao